Si cerca la schiarita in casa Cervinara, si cerca un futuro solido dopo le ultime vicende societarie che hanno minato le certezze dei calciatori. La squadra sta provando a fare il massimo, a mantenere vivo quel sogno chiamato Serie D. Il gruppo è coeso, è compatto, è chiaro che però serve una guida, qualcuno che provi a rasserenare l'ambiente, a rassicurare tutti quelli che gravitano intorno all'Audax. L'impegno della Proloco e dell'amministrazione comunale è notevole, ma c'è bisogno di una società con ruoli ben definiti, di qualcuno che dia certezze anche per il futuro. In queste ore è spuntato il nome di Aldo Taddeo, imprenditore originario di Cervinara, ma che in un recente passato è stata alla guida del Varese in Serie D. Non tramonta nemmeno l'ipotesi relativa all'ex socio Ciro Annunziata. Ci sarebbe però, secondo quanto appreso da ambienti vicini al cervo, anche la possibilità di un interessamento da parte del padrone di un club professionistico che farebbe dei biancazzurri una sorta di academy. In attesa di sapere cosa accadrà dietro le scrivanie, Befi e compagni si concentrano sul campo.